Grazie a quelle soluzioni e benvenute di nuovo a parte di Pokemon Verde Foglia Alla scorsa parte avevamo consegnato il pacco Adohak E oggi ci accendiamo a continuare la nostra avventura Ok ragazzi, il video che ho catturato L'ho allenato fino al livello 6 Nostro Bulbasaur L'ho allenato fino al livello 6 Nostro Stummasse il 9 esista parassi ecco la sigla Grazie a tutti. Siamo a Smeraldopoli. Allo Smeraldo. Andiamo a cercare Pokémon? Sì. Ok ragazzi, vi ricordate questo vecchietto? Oh, c'è un caffè, mi sento meglio. E' un scatolino, ah, è un Pokédex. E' dato la diritta. A volte c'è un po' che è un Pokédex. Mentre no. Sì, non fate come il vecchietto. Indebolite sempre il nostro po'. Potete catturare altri miei? Intesa, molto difficile. Questa toccatura, toccatura. Poké TV. Ok ragazzi. Te spero di poter vedere come funziona una Pokédex. Ok. Ciao allenatori. Come non conoscete, sarei io Guido de Guidis. E' una notte che durante la passeggiata. Però mi se si pare conservatico. E' lo sto complipito a ridurrezzare un po' con P.E.P.S. E' lo doverei boss e vostra squadra di Pokémon. E' troppo. E' una distrazione pratica. C'è un guido de Guidis. Che Pokémon inutile. Stavo di più veloce attacco per primo. Riorate se abbiamo metto il PG. A turno i contendenti si tocca cercando di ridurre i PS, non mi dico. Stavo notte, è uscito di ridurre i PS dell'avversario. Visto parte all'otto, guadagno i punti di esperienza. C'è un po' con la sale di un livello. E' lo regno, sti Pokémon più forti. E' tutto chiaro? Come se siete ridotti a zero e non potetevi combattere? Non c'è ragione per preoccuparsi questa sale di un livello. Ora è alla prossima occasione. Guardate, l'otto al giorno togli il medico di torno. E' chiaro. Un chia... Era parodia del... E' addirittura del detto. Una mela al giorno togli il medico di torno. Percorso due, percorso due... Due, due... Due, due foglie, due foglie, due foglie, due foglie... E' addirittura del detto. Pika 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 Pika. Il Bosco Smeraldo. un luogo piccaccio 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 ma che cavolo brutto che ancora sei inutile inutile è come mio zio io in politica lo fa posto non tope che c'ho fatto più che c'ho fatto più che c'ho detto che c'ho sai finalmente insomma bene ma proprio benissimo ok Pikachu you're mine grazie a concludere con il video commentate e scrivete un piu mi piace e off camera il Pikachu quindi a questo secondo tutto a domani ciao grazie a tutti